Salve a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi svelerò i segreti per diventare un comico straordinario. La comicità è un'arte affascinante e chiunque può imparare a far ridere. Basta avere alcune conoscenze fondamentali e sviluppare le giuste attitudini. Siete pronti? Allora prendi carta e penna e partiamo! Non vedo l'ora di condividere con voi questi consigli. Il primo passo per diventare un comico di successo è capire il proprio pubblico. Sì, ti sembrerà strano, ma è la chiave che porta il comico amatoriale a quello con spessore. Ogni persona ha un senso dell'umorismo diverso, quindi bisogna studiarlo attentamente. Osservate le reazioni delle persone quando raccontate una battuta, provate diverse forme di comicità e capite cosa funziona meglio. Quello che vi serve è trovare il vostro genere comico e soprattutto quello che è nelle vostre corde. Un buon comico sa adattarsi al suo pubblico e farlo sentire coinvolto. La comicità richiede un'immaginazione vivace e una buona dose di creatività. Sviluppate la vostra capacità di osservazione e notate le situazioni comiche nella vita di tutti i giorni e trasformatevi in sketch divertenti. Giocate con le parole, le espressioni facciali e i gesti per rendere le vostre performance uniche e indimenticabili. Il timing è l'elemento segreto che fa la differenza tra una battuta divertente e una battuta che fa scoppiare il pubblico in una fragorosa risata. È la capacità di gestire il ritmo e l'attesa, creando suspense e sorprendendo il pubblico nel momento giusto. Immaginate di raccontare una battuta. Se diciamo questa frase velocemente senza dare il tempo al pubblico di elaborare la battuta, potrebbe passare inosservata. Ma se mettiamo una breve pausa dopo la domanda e poi pronunciamo la risposta con un tono divertito, creiamo suspense e permettiamo al pubblico di immaginare possibili soluzioni, per poi svelare il colpo di scena. Questo è il potere del timing. Un esempio pratico potrebbe essere il seguente. Immaginate di raccontare una storia in cui vi siete trovati in una situazione imbarazzante. Nel momento in cui state per rivelare l'evento imbarazzante, fate una breve pausa e sguardo malizioso al pubblico, creando un'aspettativa di risata imminente. Poi con un sorriso complice rivelate l'episodio in tutta la sua comicità. La pausa e l'uso del linguaggio del corpo hanno amplificato l'effetto comico, rendendo il momento ancora più esilarante. Il timing è come dirigere un'orchestra. Ogni parola, ogni gesto e ogni pausa sono come le note che compongono una sinfonia di risate. Sapere quando accelerare il ritmo per sorprendere il pubblico o quando rallentare per creare il suspense è fondamentale per catturare l'attenzione e mantenere l'effetto comico. Questo è solo un assaggio dell'importanza del timing nella comicità. Ma non preoccupatevi, nei nostri corsi di comicità online vi sveleremo tutti i segreti per padroneggiare il timing e renderlo un'arma potentissima nel vostro repertorio comico. Il prossimo capitolo vi svelerà l'importanza della narrazione nella comicità e come poter trasformare semplici aneddoti in momenti indimenticabili di risate scroscianti. La narrazione è un'arte potente che può trasformare semplici aneddoti in momenti indimenticabili di risate travolgenti. Quando raccontate una storia divertente arricchitela con dettagli esilaranti, modulando i toni vocali e dando vita ai personaggi coinvolti. Immaginate di raccontare un episodio in cui avete fatto una gaffa imbarazzante in un luogo pubblico. Oltre a fornire i dettagli essenziali, arricchite la storia con particolari divertenti che mettono in risalto la vostra goffagine. Modulate la voce per dare vita ai personaggi coinvolti. Usate toni diversi per voi stessi, per le persone intorno e per eventuali personaggi eccentrici che incontrate lungo il percorso. La narrazione comica richiede un mix di precisione e spontaneità. Prima di condividere una storia, mettetela alla prova affinando gli elementi che la rendono divertente. Provate a raccontarla ad amici o parenti e osservate le loro reazioni. Apportate le modifiche necessarie e poi imparerete a utilizzare i dettagli giusti, i toni vocali e i personaggi vividi per creare un impatto comico duraturo. Nel prossimo capitolo esploreremo l'umorismo nella vita di tutti i giorni e come trasformare situazioni banali in momenti di pura risata. Pronto? Ok. Il vostro linguaggio del corpo è un'arma potente per far ridere il pubblico. Espressioni facciali, posture, gesti possono amplificare l'effetto comico delle vostre battute. Studiatevi di fronte allo specchio. Imparate a comprendere l'impatto che il vostro corpo può avere sulle reazioni del pubblico. Divertimento assicurato. Un esempio pratico potrebbe essere quello di raccontare una battuta esagerando l'espressione facciale e i gesti. Se state raccontando una barzelletta sulle dimensioni di un oggetto, ad esempio, potete allargare gli occhi e aprire la bocca in modo esagerato per enfatizzare l'effetto comico. Ricordate, il vostro corpo è uno strumento versatile che può rendere le vostre battute ancora più divertente. Ora parleremo dell'umorismo nella vita di tutti i giorni e di come trasformare situazioni banali in momenti di risata. Ricordatevi che l'umorismo può essere trovato ovunque. Prendete spunto delle esperienze quotidiane, dalle situazioni assurde o imbarazzanti che vi capitano. Un comico sa cogliere l'essenza comica a delle situazioni più banali e trasformarli in momenti di pura risata. Spero che questo manuale vi abbia ispirato a intraprendere il cammino verso il mondo comico. Se desiderate approfondire le vostre abilità comiche, vi consiglio di dare un'occhiata ai nostri corsi di comicità online. Sì, offriamo un programma completo, suddiviso per livelli di abilità, che vi guiderà passo dopo passo nel mondo della comicità. Dai principianti ai professionisti non importa, abbiamo corsi adatti a tutti, con esercitazioni pratiche, feedback personalizzati e consigli preziosi per farvi crescere come comici. Ricordatevi, tutti possono far ridere. Bisogna metterci impegno, passione e dedizione nel coltivare le proprie abilità comiche. Ma divertitevi, sperimentate, non abbiate paura di fallire. La comicità è un'arte e ogni battuta è un'opportunità per portare gioia nel mondo. Grazie per avermi seguito e continuate a seguirci sul nostro canale per ulteriori consigli, ma soprattutto per i contenuti sul nostro mondo, sul mondo della comicità.